Abbiamo ottenuto un risultato storico dalla Commissione europea, cioè il riconoscimento che la ferrovia adriatica è un corridoio core dell'Unione Europea. Siamo l'unico paese che a questo punto ha due corridoi. È chiaro che abbiamo scelto di investire oltre 5 miliardi sulla adriatica e continueremo ad investire negli anni prossimi. Quindi è un progetto complesso, è un progetto che si costruirà nel tempo. Abbiamo elaborato una nuova proposta che discuteremo con la regione Marchere e altre regioni in maniera tale da arrivare il prima possibile a un accordo per fare poi i passi successivi. La adriatica è il luogo di scorrimento delle merci in Italia. E con tutto l'investimento che stiamo facendo nei porti del centro, del nord, del sud, non possiamo rischiare che l'adriatica sia un collo di bottiglia. Dunque l'investimento che stiamo facendo non è solo per i passeggeri, è anche naturalmente per le merci. E proprio in questa prospettiva noi vogliamo ridurre al minimo i possibili disagi per i cittadini. Ma è un investimento pluriannale ed è un investimento di cui il paese ha bisogno proprio per evitare di avere poi un blocco dopo tutti gli investimenti che stiamo facendo sul sistema logistico generale.